ci stiamo preparando per una cosa bellissima stasera che succederà il botto lo sapete che quando parlo io succede il botto voi lo vedete già la mia la mia espressione di faccia e tutto quanto stasera farò calare i sipari detto da angela chianello tra virgolette mondello a più tardi ragazzi tre settimane fa ho fatto ho chiamato un mio amico per fare per essere al pubblico questo mio amico si è messo a disposizione dicendomi andrea adesso vediamo non ti preoccupare il 2 ottobre mi arriva un email di conferma che eravamo quattro persone io mio marito e due amici mezz'ora fa prima che iniziasse il programma mi è stata mandata un email in cui non c'erano più posti ma non è vero questa è stata una scusa bella e buona lo sapete perché perché sono angela camondello mi temono io ho risposto anche a lui educatamente perché sono angela camondello non mi avete fatto entrare ma che cosa state facendo sul mio nome adesso basta buttare fango sulle persone che non sono così e niente ragazzi me ne sto andando non ho mai pianto davanti a tutti voi mi sento veramente discriminata perché non sono così e non lo sono mai e la dovete smettere di dire quello che non sono chi mi conosce sa come sono e chi sono basta mi sono rotta veramente il cazzo basta